Stavo facendo palestra, quindi è venuto il fisioterapista della Nazionale che lo conosce e mi dice la storia è morta, che cazzo stai dicendo? Guarda che cazzata ha scritto quel coglione che avrà fatto il titolo, magari si è sbagliato, ha sbagliato una vocale era vero, di fronte alla morte di un ragazzo per bene, un amico per bene, un fratello di Nazionale, di calcio l'unica soluzione possibile fosse quella di fare l'inimmaginabile per essere presenti abbiamo finito la partita, siamo andati a letto alle 3 di notte, alle 6 ci siamo svegliati per venire là e nessuno ha detto vao, come giusto che fosse